Com'è lavorare insieme? Litigate un po' quando lavorate insieme oppure va sempre tutto bene? Non litighiamo. Noi ci siamo conosciuti proprio sul set del nostro primo lavoro insieme. Dopo qualche anno abbiamo lavorato di nuovo insieme in un altro progetto. Non abbiamo mai litigato sul set perché se io penso a una cosa, lui la capisce, se lui pensa a una cosa, io la capisco. Noi ci comprendiamo l'uno con l'altro senza darci spiegazioni e quindi ci sosteniamo sempre a vicenda. Non abbiamo mai avuto alcun problema. Mi sento davvero molto fortunata. Però so che avete fatto un litigio importante prima del matrimonio. All'epoca ero molto, molto giovane, Silvia. Dobbiamo considerare anche questo. E Kadir è un grande appassionato di moto. Aveva tanti caschi, tre moto parcheggiate e teneva molto a tutto. Se ne prendeva sempre cura. Sapevo perfettamente che era quello, il suo punto debole. Mi sono arrabbiata a tal punto che gli ho rotto tutti i caschi. Tutti? Sì. Poverino. Ero molto giovane. Ero molto giovane. E non si è arrabbiato per niente. Allora ti ama veramente tanto.